Sono loro ad essersi presi cura di noi in questi mesi, senza chiedere nulla in cambio e rifiutando l'appellativo di eroi. Medici, infermieri, più in generale il personale sanitario di tutta Italia. Lei ha scelto l'ospedale della sua città per dire il suo grazie. Valeria Altobelli, accompagnata dal suo chitarrista, ha dedicato una canzone a tutto il Santissima Trinità di Sora ed ha scelto un testo emblematico, la cura di Battiato. La sua voce, una chitarra e la commozione di chi ha potuto assistere a questo gesto che non è stato reso pubblico prima per una precisa scelta. Ma quelle note hanno toccato il cuore di molti che hanno postato i video sul web per ringraziare Valeria. Una canzone e non solo. Valeria ha donato anche mille mascherine FFP2 e termometri laser, ma ha avuto un pensiero personale anche per le donne in servizio nella struttura sanitaria ed ha letto una lettera di ringraziamenti. Grazie per il vostro lavoro instancabile. Grazie per tutte le volte in cui, dietro ai sorrisi, mangiavate lacrime. Sora vi deve la vita perché insieme avete vinto questa partita. È stato un modo per dimostrare ancora una volta l'attaccamento alla sua città, come ha sottolineato anche il marito Simone Venier, in un messaggio che le ha dedicato al termine di questa serenata, come lei stessa ha amato definirla.